L'ha sentito? Sembrava un grido. Oddio. Poveretto. È un suo amico? No, l'hai visto prima. Ti sei domandato se sia stato spinto giù? Sapeva che lui aveva con sé quella fotografia? Lo ignoravo. È stata scattata molto tempo fa. Perciò lui la sentiva. Io non lo so. Ha detto solo. Credevo non avesse detto niente. Qualcosa l'ha detto. Che cosa? Se non sbaglio... Perché non l'hanno chiesto a Evans? Come pensi che risponderai? Ti ha lasciato le sue ultime parole. È come un vincolo, dovresti saperle. C'è solo una regola, Bobby. Giocarsela con me. Giocarsela con me. Alla toni. Alla toni. Grazie a tutti.